Questo video vuole essere un'analisi del decreto Lamentabili e apparentemente uno dice ma che importanza ha questo decreto? Decreto scritto da San Pio X, il famoso Papa che scrisse come sappiamo anche il famosissimo Catechismo. Questo decreto fu scritto pochi mesi prima della famosa Pacien di Domenici Gregis, quella encichica che suscitò le ire dei modernisti perché fu accusato San Pio X di mettere tutto quanto diciamo nello stesso calderone. In realtà San Pio X fu molto acuto nell'analizzare proprio quegli errori, quelle eresie dei modernisti che ancora adesso vivono e vegetano purtroppo dentro nella nostra chiesa, nella nostra chiesa cattolica. Quindi andiamo a vedere una lista, un elenco di queste tesi errate, di queste eresie che Pio X ha condannato in questo decreto che ripeto si chiama Lamentabili, che ha proprio come argomento gli errori dei modernisti. Come sappiamo la chiesa fino a qualche tempo fa, fino almeno al Concilio Vaticano II, usava condannare le tesi eretiche attraverso la redazione di alcune frasi, di alcune proposizioni che non erano certamente diciamo un copia e incolla delle frasi, degli scritti dei modernisti, ma erano delle proposizioni che cercavano in maniera riassuntiva di presentare appunto queste cosiddette tesi, queste cosiddette verità, che in realtà verità non sono, che sono errori dei modernisti, in modo tale che la chiesa potesse dire questo e quest'altro noi condanniamo. Quindi c'era una chiarezza della chiesa che come vediamo, come dovrebbe avere ancora, ha la funzione di docente. Noi sappiamo, qui vedremo come i modernisti cercano di distruggere questo concetto, noi sappiamo che esiste una chiesa docente che fa capo al Papa, naturalmente che è il primo dei docenti in quanto che è ricardo di Cristo, è al dovere di insegnare la dottoria del Cristo e il Magistero, e i Vescovi, i Vescovi in quanto successori degli Apostoli. Naturalmente anche i Cardinali per esempio hanno un'autorità, però attenzione a quell'autorità dei Cardinali è comunque non un'autorità pari a quella dei Vescovi, è un'autorità di tipo diverso. E poi naturalmente anche i sacerdoti nel loro parrocchia hanno il dovere di difendere e sostenere e predicare la retta dottrina. Naturalmente però nella nostra chiesa, come sappiamo contemporaneamente, se si parla di retta dottrina, si viene, si risponde che noi usiamo la dottrina come una pietra da scagliare contro, quindi capite che è problematico riuscire a pensare ancora che esista una chiesa docente. In alcuni sacerdoti sì, però in tanti altri sappiamo che c'è proprio una volontà di non essere docenti, di voler appunto non insegnare più, andando contro al mandato di Gesù Cristo nostro Signore. Andiamo a vedere dunque in queste affermazioni quali sono le follie sostenute dai modernisti. La prima parte, insomma, nei primi capitoli si dedicano all'emancipazione delle esegesi dal Magistero della Chiesa. Sono parole un po' difficili, esegesi vuol dire interpretazione. Noi sappiamo che naturalmente la Chiesa fornisce la possibilità ai teologi di studiare la scrittura, però questo studio non può andare a sostenere qualcosa che sostanzialmente è contrario, è in opposizione alla dottrina cattolica. Il teologo ha certamente una sua libertà di movimento, ma questa libertà di movimento, la Chiesa ha sempre sostenuto, non può andare a creare, a sostenere delle dottrine che sono in palese contrasto con ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. Il teologo ha dunque il compito, certamente, di aiutare la Chiesa ad interpretare, a quell'interpretazione che però fa capo alla Chiesa stessa. Andiamo a vedere invece come i modernisti in qualche modo distruggono quest'idea, creando, come vedremo, un opposto. Prima idea. La legge ecclesiastica, che prescrive che debbano essere presentati alla previa censura ai libri riguardanti le divine scritture, non si estende ai cultori della critica o dell'esegesi scientifica dei libri dell'Antico e Nuovo Testamento. Quindi i modernisti, in pratica, sostengono che la Chiesa non si può permettere di dire, appunto, agli esegeti, quindi a questi nuovi teologi, della famosa nouvelle théologie, la nuova teologia, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Quindi, praticamente, la Chiesa stia buona, stia calma, dicono gli esegeti, perché noi possiamo dire fare quello che vogliamo. Quindi gli esegeti chiedono una libertà assoluta, quindi libertà anche di andare a sostenere tesi eretiche. Questa è l'assurdità che sostiene il modernista. Numero 2. L'interpretazione dei sacri libri da parte della Chiesa non è da disprezzarsi, ci mancherebbe pure. Tuttavia deve essere sottoposta al giudizio, alla correzione più accurata degli esegeti. Cosa dicono qua i modernisti? I modernisti sostengono praticamente il contrario di quello che dovrebbe essere la Chiesa. La Chiesa, ripeto, abbiamo una parte docente, che è costituita dal Papa, dai Vescovi, poi dai Sacerdoti, e una parte discente, che sono i laici. Siamo noi che dobbiamo imparare, se qualcuno ci insegnasse qualcosa. Gli esegeti modernisti dicono il contrario. Siamo noi, noi teologi, che siamo fighi e siamo belli, a insegnare a voi Chiesa docente. Quindi si scambiano i ruoli. Però, sì, se ci piace, se vogliamo, possiamo apprezzare anche qualcosa di come voi, Chiesa docente, insegnate la scrittura. Quindi, capite, è come se gli allievi di una classe dicessero i docenti devono ascoltare noi, quello che noi insegniamo. Poi ogni tanto, se c'è qualcosa che ci piace, l'accettiamo di quello che i docenti stanno insegnando. Capite? Questa è l'assurdità di queste tesi. Numero 3. Dai giudizi dalle censure ecclesiastiche emanate contro una libera e più colta esegesi, però perché loro sono fighi, loro sono colti, loro sono esegeti, quindi perché ci devono essere dei censuri ai nostri confronti se noi andiamo a sostenere le vere tesi, quelle che nessuno ha mai detto ma in cui noi invece crediamo. Si può dedurre che la fede proposta dalla Chiesa contraddice la storia. Oibo, quindi praticamente gli esegeti dicono se la fede contraddice la storia, ha ragione la storia. Quindi invece di, come al solito, dire che la Chiesa deve educare il mondo, quindi portare ad una conversione del mondo, no, è la storia che deve educare la Chiesa. Quindi è l'evoluzione del pensiero, di questa dottrina che secondo i modernisti è in continua evoluzione, deve essere in continua evoluzione, che deve informare al contrario la Chiesa. Quindi capite l'assurdità. E' ancora una volta la storia che insegna la Chiesa invece che la Chiesa che deve insegnare la storia. Sappiamo che la Chiesa ha il dovere di insegnare la storia umana perché la storia della salvezza è la storia di Cristo, non è la storia dell'evoluzione francese, è la salvezza umana. E quindi, capite la profondità. I dogmi cattolici non possono di fatto conciliarsi con le origini più vere della religione cristiana. Questa è l'altra follia che ci riporta naturalmente a Lutero, Lutero, come altri tanti eretici, sostenne che la Chiesa cattolica aveva tradito le idee primitive del cristianesimo e che bisognava ritornare al primitivo, all'originario. Quindi che solo attraverso la riforma e via dicendo, e tutte le altre eresie che si sono allargate a macchiadoglio nella Chiesa, si poteva tornare alla vera primitiva Chiesa. Quindi qui c'è dentro tutto Lutero, minuto per minuto. Il magistero della Chiesa non può determinare il senso autentico delle sacre scritture. Oibò, sentite, la Chiesa non ha la facoltà, secondo i modernisti, di dichiarare qual è che è il vero senso delle scritture. Siamo noi, esegeti, che siamo più figli e più furbi, più intelligenti a determinarlo. Non certamente voi, Chiesa docente. Neppure per il mezzo di definizioni dogmatiche. Quindi non si permetta alla Chiesa di mettere nero su bianco definizioni dogmatiche come l'Immacolata Concezione, oppure la stessa Santissima Trinità, oppure, che so, l'assunzione di Maria in cielo, o tutto quello che volete a livello dogmatico. Non può farlo, perché tanto, come vedremo più avanti, ci dicono che i dogmi non sono verità assolute, ma che i dogmi sono frutto del pensiero umano, che sono in evoluzione e via dicendo. Siccome nel deposito della fede non sono contenute altre verità che quelle rivelate, non compete sotto alcun aspetto alla Chiesa giudicare le asserzioni delle discipline umane. Quindi cosa dicono i modernisti? La Chiesa non si può permettere di aprire la bocca su cose che esulano, su argomenti che esulano dal contenuto della fede. È assurdo, quindi se io ho una teoria filosofica che è palesemente pericolosa e in contrasto con la dottrina cattolica, la Chiesa non può aprire la bocca. Ed è quello che ci dicono ancora adesso. La Chiesa non può parlare, non si permetta di commentare una legge la Chiesa, perché siamo un paese laico, la Chiesa deve stare zitta. Tutte queste idee vengono fuori dalle follie dei modernisti, prima ancora dagli illuministi, che sono ovviamente i maestri massoni dei signori modernisti. Quindi capite la Chiesa, se trova un concetto, un'idea sostenuta dal tal politico o dalla tal persona che va in contrasto con la verità del Cristo, che è la verità assoluta, deve stare zitta. Può parlare soltanto se si parla di cose strettamente, quindi inter nos. Quasi che la Chiesa e la fede diventi dunque qualcosa di estremamente privato, qualcosa che non può essere di pubblico dominio. Quindi c'è il contrario di quello che ci ha comandato Cristo, quindi la Chiesa deve andare invece nel mondo e deve convertire il mondo, perché noi siamo nel mondo ma non siamo nel mondo, e noi dobbiamo il dovere di predicare il Vangelo. Quindi il contrario di quello che questi sfaccendati qui delinquenti della scrittura sostengono, i signori modernisti. Attenzione a questo numero 6, queste le devo leggere tutte perché sono delle chicche, veramente. Nelle definizioni della verità, la Chiesa discente, attenzione, la Chiesa discente sono i laici, quelli che dovrebbero solo imparare, stare zitti, e che sono costretti a fare dei video come me, perché c'è la Chiesa docente che non fa più il suo mestiere. Cosa dicono i modernisti? Nelle definizioni della verità, la Chiesa discente collabora con la Chiesa docente, in modo tale che alla Chiesa docente, attenzione, al Papa, ai Vescovi, ai Sacerdoti, non rimane che accettare le comuni opinioni di quella discente. Quindi cosa dicono i signori modernisti? La Chiesa praticamente deve accettare ciò che dice la maggioranza di chi? La maggioranza dei credenti. Ed è quello che si sostiene nei vari sinodi adesso. Quindi il concetto della sinodalità, se c'è una maggioranza di persone, anche appunto non appartenenti, quindi al mondo dei consacrati, quindi il Vescovà, ai Vescovi, al Papa, dicendo, devono accettare quello che dice la maggioranza. Quindi se una maggioranza sostiene una manica di fesseria e di eresia, io la devo accettare perché è la maggioranza dei discenti. Quindi la Chiesa docente, quindi il corpo docente della Chiesa, per così dire, per mutuare una parola della scuola, deve adeguarsi a quello che dicono gli studenti. Addirittura deve entrare in classe il docente e dire se c'è una maggioranza di studenti che sostiene un'opinione, una teoria che è contraria a quello che l'insegnante spiega, l'insegnante si deve adeguare. Il giorno dopo farà una lezione in cui praticamente spiega ciò che gli studenti già sanno, perché l'hanno spiegato loro prima. Capite il discorso assurdo? Quindi la Chiesa discente è l'unione dei laici, che devono solo imparare, se la Chiesa docente facesse ancora il suo mestiere di spiegare la scrittura e appunto il Magistero della Chiesa. Non lo fa e quindi in sostituzione ci dovrà andare qualcun altro. Però il problema è questo, capite? Il problema è quello di definire delle teorie che adesso hanno avuto praticamente il risultato drammatico finale. Lo drammatico è che siamo al punto che la Chiesa docente non vuole più fare il suo mestiere. Quindi che Papa, Vescovi e Sacerdoti, non tutti per carità, guardate sempre le mie affermazioni come purtroppo brutali generalizzazioni, che però se guardiamo tante omelie che sentiamo nelle Chiese purtroppo sono sempre più vere. Quindi non vuole più fare il suo mestiere di doce per carità, perché se no le persone si offendono quando gli parli della verità del Cristo sotto tanti aspetti, in tanti aspetti della vita, allora bisogna adeguarsi a quello che dice il mondo. Questo è quello che sta dicendo. Salto, non li leggo tutti, anche soltanto delle vere e chicche, andiamo a vedere l'ispirazione e l'inerranza della Sacra Scrittura. Anche qua ci sono delle grandi chicche. Io mi sono già dedicato alla questione delle contraddizioni interne presenti sicuramente nei quattro Vangeli, però abbiamo anche detto che queste contraddizioni non sono contraddizioni sostanziali che vanno a attaccare il contenuto dei Vangeli. Ci sono. E vediamo che cosa dicono sull'inerranza, cioè sul fatto che la scrittura non può sbagliare. Cosa dicono i modernisti? Coloro che credono che veramente Dio è l'autore delle Sacre Scritture mostrano di essere molto ingenui e ignoranti. Cioè, capite, praticamente stanno dando a 2000 anni l'istoria della Chiesa degli ingenui. Tutti quelli prima di loro, prima dei modernisti, che hanno creduto che ciò che è nelle scritture è la verità, sono tutti degli idioti. Solo loro, che sono più figli, sono più belli, sono più grandi, quante volte abbiamo sentito, no? Quell'atteggiamento veramente farisaico, questi veramente sono farisei, di questi qua, i quali ci dicono, tu che ancora credi a tutte quelle teorie, quei dogmi che la Chiesa ha insegnato apparentemente su rivelazione divina, in realtà siete tutti degli ingenui, arriviamo noi, noi vi raccontiamo come stanno veramente le cose. Capite? La profonda, anche superbia, l'ispirazione dei libri dell'Antico Testamento è da intendersi così, che gli scrittori israeliti insegnarono a dottorine religiose sotto un qualche aspetto particolare, poco noto, o del tutto ignoto ai pagani. Quindi, secondo loro, i libri dell'Antico Testamento non esplicano una verità assoluta, ma qualcosa che serviva d'aiuto, in qualche modo, ai pagani. Una verità che non è assoluta, ancora una volta. L'ispirazione divina non si estende a tutta la Sacra Scrittura, è solo quello che vogliono loro, che noi del cristianesimo prendiamo e della Sacra Scrittura, secondo i modernisti, solo ciò che ci piace, in modo che tutte e singole le sue parti siano immuni da qualunque errore. Quindi, secondo loro, ciò che è affermato appunto nella scrittura è che è contenuta la verità, come ha avuto modo di dire un mio appunto commentatore qua sotto, che è profondamente modernista, quindi ha accettato le eresie moderniste, che mi diceva appunto che nella scrittura non c'è la verità, ma c'è un contenuto della verità, a parte il fatto che se qualcuno... Vabbè, lasciamo stare, se no poi si offende. L'esegeta che voglia umilmente applicarsi agli studi biblici, sentite cosa dicono i nostri modernisti, dovrà anzitutto mettere da parte ogni preconcetto sull'origine soprannaturale della Sacra Scrittura e poi dovrà interpretarla come qualunque altro documento umano. Quindi l'esegeta modernista, l'esegeta dell'Ine, colui che interpreta, deve farlo come se stesse leggendo la lista della spesa, quindi non deve più avere alcuna, quello che secondo loro è un preconcetto, quindi l'idea di base da cristiano, se vuole essere cristiano, che la scrittura è qualcosa di soprannaturale. Invece no, deve abbandonare quest'idea secondo loro e pensare appunto che tutto ciò che legge sia semplicemente un romanzo, un'operetta in qualche modo edificante. Quindi capite la gravità di questa affermazione. Le parabole evangeliche, attenzione, qui arriviamo al meraviglioso, furono artificiosamente messe insieme dagli stessi evangelisti o dai cristiani della seconda e terza generazione, addirittura. Quindi secondo i modernisti, ciò che è indicato appunto nelle parabole di Cristo sono semplicemente delle, diciamo, aggiunte successive che i primi cristiani avrebbero fatto ai contenuti di base, biografici, indubbiamente, della vita e morte e risurrezione di Cristo. Così da dare una ragione del poco frutto della predicazione di Cristo presso gli ebrei, cioè praticamente loro stanno dicendo che hanno aggiunto queste parabole per gli ebrei, no? Nella seconda e terza generazione, dopo chiaramente già di cristiani, perché avevano visto che Cristo non aveva avuto un grande effetto, questo poi lo sostengono loro i modernisti, perché invece Cristo ha chiaramente portato alla fede migliaia di persone, pensiamo soltanto quello che si dice negli atti degli apostoli, no? Che con la predicazione degli apostoli c'era un moltiplicarsi, anzi esponenziale, però secondo loro Cristo praticamente ha quasi fallito e quindi praticamente siccome c'era poco frutto presso gli ebrei allora scriviamo, scriviamo parabole, quindi secondo loro le parabole sono un'invenzione, vedete come sono furbi e intelligenti questi modernisti, un'invenzione successiva. In molte delle loro narrazioni gli evangelisti non riportarono tanto quelle cose che veramente avvennero, ma quelle che a loro sembrarono più utili per i loro lettori, sebbene fossero false, quindi praticamente stanno dando agli evangelisti dei bugiardi. Tutti e quattro gli evangelisti, ripeto, queste non sono le frasi diciamo, papale papale, come si suol dire, scritte, Cioè non è che questa frase è indicata in qualche libro dei modernisti, però San Pio X ha fatto un riassunto delle loro teorie e vogliamo credere che San Pio X non inventasse appunto delle falsità sul conto di questi modernisti, questo è un po' riassunto di quello che loro nelle loro libri sostengono, quindi che praticamente gli evangelisti non riportarono quelle cose che avvenirono ma quelle che a loro interessavano più. I vangeli furono soggetti a continue aggiunte numero 15 e correzioni fino a che fu definito e costituito il canone, perciò in essi non rimase se non un tenue e incerto vestigio della dottrina di Cristo, quindi secondo i modernisti i quattro vangeli sono praticamente una copiatura super lavata, diciamo super sbiadita della verità sostenuta dal Cristo. Le narrazioni di Giovanni non sono storia propriamente detta, allora non piace quindi non è storia, ma mistica o contemplazione del Vangelo, beh sicuramente qui hanno ragione sul fatto che il Vangelo di Giovanni è sicuramente un Vangelo di alta teologia che ha un obiettivo teologico più spiccato, più colto sicuramente rispetto agli altri tre. I sermoni contenuti nel suo Vangelo sono meditazioni teologiche sul mistero della salvezza destituiti di verità storica, quindi secondo loro queste frasi appunto di San Giovanni non hanno alcun riscontro, quindi non sono state veramente dette da Cristo così, come dicevo. Il quarto Vangelo, quello di Giovanni ovviamente, esagerò i miracoli, non solo perché apparissero più straordinari, ma anche perché fossero più adatti a significare l'opera e la gloria del verbo incarnato, quindi secondo loro, attenzione perché è tipico dei modernisti quello di sminuire la sovranaturalità, per loro esiste sostanzialmente soltanto il Dio uomo, vedremo anche che cosa credono, si fa per dire, di Cristo, un Cristo che è umanizzato, un Cristo che perde quasi del tutto la sua natura divina, quindi questi sono ariani praticamente, quindi secondo loro i miracoli sono stati un po' esagerati a bella posta, loro non potevano troppo intelligenti, non potevano credere i modernisti tuttora, io dico erano però, esistono ancora adesso, scusate questo imperfetto è falso, io qui mi riferisco all'imperfetto perché sto parlando di quello che diceva San Pio X, ma ci sono, lottano e vivono in mezzo a noi, più che mai, più che mai, nemici della Chiesa, ma all'interno della Chiesa, l'obiettivo dei modernisti come sappiamo è quello di distruggere la Chiesa dal suo interno, questo di fatto è l'obiettivo di questi grandi buonaiuti e via dicendo che anzi, no, il Papa avrebbe dovuto parlare con loro, sì, mi dicono alcuni, avrebbero dovuto, sì, dialogare su queste cose avrebbe dovuto il Papa, cioè rendiamoci coni. Giovanni ha preteso per sé il carattere di testimone di Cristo, ma in verità non è altro che un esimio testimone di vita di Cristo, ma ce l'avevano in maniera particolare con San Giovanni Apostolo. E vabbè, andiamo a vedere il concetto di rivelazione, perché anche qui troviamo cose molto dolorose o che se vogliamo insomma dolorose o anche un po' ridicole, insomma si ride per non piangere. Non le leggo tutte perché sennò non facciamo in tempo, anzi, non faremo sicuramente in tempo, quindi la divido magari in due video differenti, qui facciamo la prima parte, poi nella seconda vediamo chi ancora avrà voglia di seguire queste fesserie, però giusto perché, non tanto perché dobbiamo ripeto ritenerci superiore altrimenti cadremmo dentro negli errori di questi stupidoni, ma semplicemente per capire da chi dobbiamo difenderci. Se noi sentiamo queste fesserie dal pulpito, ripeto, il decreto lamentabile è trovabile sicuramente anche su internet, quindi non c'è bisogno che voi ascoltiate neanche tutto di questo video, però comunque sia sono veramente cose assurde. Andiamo a vedere cosa dicevano della rivelazione del dogma. La rivelazione non potè essere altro che la coscienza acquisita dall'uomo nella sua relazione con Dio, quindi vedete, la distruzione del concetto di rivelazione come qualcosa che viene interamente da Dio e che noi da soli non possiamo crearci. Quindi qui c'è anche una base, secondo me, di pelagianesimo, quindi di quella dottrina secondo cui l'uomo è in grado di salvarsi da solo e di arrivare da solo ad una verità, ad una verità totale. Capite l'assurdità? E' quasi pelagiana secondo me questa affermazione, che la rivelazione praticamente è niente che la coscienza umana. La coscienza umana parla direttamente con Dio, non ha bisogno della scrittura. Capite l'assurdità? La rivelazione che costituisce l'oggetto della fede cattolica non terminò con gli apostoli, no, con Duma avanti, aggiungiamo, aggiungiamo, ma sì. I dogmi, attenzione, che la Chiesa presenta come rivelati non sono verità venute dal cielo, ma sono una qualche interpretazione dei fatti religiosi, che la mente umana sia acquistata con un faticoso lavoro. Ecco perché adesso quando dici dogma nella Chiesa ti guardano tutti quanti come il diavolo venuto in terra, il diavolo apparso in terra. I dogmi, secondo questi personaggi, sono dunque in realtà semplicemente delle idee umane, quindi la Chiesa non è ispirata in maniera inerrabile, quindi senza errore dallo Spirito Santo, nel proclamare i dogmi, come per esempio quello dell'immacolota concezione o l'assunzione in cielo di Maria Santissima, ma sono semplicemente delle idee che potrebbero nel tempo anche essere confutate da un altro Papa che si mette lì nero su bianco e dice non è vero che Maria Santissima è sempre stata vergine, per fare un esempio. Cose gravissime che però questi modernisti sostengono. Vanno a sostenere delle idee che però hanno conseguenze a livello metastatico, cioè voi capite che non è che loro ti stanno dicendo che in realtà il modernista non ha delle sue teorie, il modernista è un distruttore, quindi il modernista ha semplicemente l'obiettivo di distruggere la verità assoluta, il modernista l'unica cosa che non accetta è una verità che sia a cui bisogna obbedire, credere per tutti quanti, quindi paradossalmente il modernista potrebbe credere anche ad una verità e due giorni dopo ad un'altra e non trovarne una contraddizione, quindi capite quanto è totalmente irrazionale le idee dei modernisti, per quello vengono chiamati la summa di tutte le eresie, la summa di tutte le eresie perché naturalmente si possono usare una cosa e anche il contrario, in quanto che è una verità assoluta, non esiste più. Ecco qua, infatti ci dice può esistere, di fatto esiste, un'opposizione tra i fatti narrati nella Sacra Scrittura e i dogmi della Chiesa che su di essi si appoggiano, così il critico può rigettare come falsi quei fatti che la Chiesa ritiene come certissimi, quindi anche se la Chiesa dice che è certissimo un fatto, io sono un'esegeta figo e intelligente, modernista, non mi piace, non lo accetto. Non è da riprovare l'esegeta che ammette delle premesse dalle quali consegue che alcuni dogmi sono storicamente falsi o dubbi, quindi il dogma diventa un'opinione, a condizione che non neghi direttamente quegli stessi dogmi, vabbè, praticamente non nega il dogma però dice che di fatto le premesse sono false, quindi praticamente lo distrugge, è il solito obiettivo mafioso poi, di distruggere dal basso senza farsi vedere. L'assenso della fede si appoggia in ultima analisi solo su un accumulo di probabilità, quindi la fede non è più una verità assoluta secondo i modernisti ma è più o meno un'avvicinarsi in maniera probabilistica, è una teoria scientifica, il dogma, la verità cristiana diventa una teoria scientifica. Andiamo a vedere solo cosa dicono ancora del Cristo, i nostri modernisti e poi ci fermiamo. La divinità di Gesù Cristo non è provata dai Vangeli, sentite cosa sostenevano, ma è un dogma che la coscienza cristiana ha dedotto, coscienza umana, quindi coscienza secondo loro non ispirata da Dio, dalla nozione di Messia. Quindi non è detto che non siamo sicuri dicono i modernisti che Cristo sia Dio. Vita è la gravità di questa affermazione. Gesù nell'esercizio del suo ministero non parlava per insegnare che egli fosse il Messia, ho mai detto, né i suoi miracoli intendevano provare ciò, quindi gli faceva miracoli così per divertirsi, non per determinare appunto la sua divinità. Nel Vangelo di Marco all'inizio troviamo tantissimi miracoli, ma secondo loro questi servivano solo un po' un po' per passare il tempo, ok? Quindi egli non insegnava di essere Messia, quindi quando chiede a chi dite che voi sia, che io sia, e San Pietro gli risponde tu sei il Cristo, allora a quel punto secondo i modernisti, se avessero ragioni i modernisti, Cristo avrebbe dovuto dire no, non lo dire San Pietro perché io non sono il figlio del Dio vivente, assolutamente no, non ti permette. Si può concedere che il Cristo presentato dalla storia sia molto inferiore al Cristo che costituisce l'oggetto della fede, quindi secondo loro esiste un Cristo errato, ci pare di capire che è quello della fede, mentre il Cristo reale storico, e qui c'è tutto Renan, appunto il testo di Renan, il Cristo diventato ormai uomo, è diventato un saggio alla Socrate. In tutti i testi evangelici il nome di figlio di Dio equivale soltanto al nome di Messia, tuttavia ciò non significa affatto che Cristo sia il vero e naturale figlio di Dio, non si sa, ce lo diranno loro i modernisti chiedi io. Gravissimo, attenzione, qui se la prendono anche con i concili ecumenici, la dottrina riguardante Cristo che insegnano Paolo, Giovanni e i concili di Nicea, Efeso e Calcedonia non è quella che ha insegnato Gesù, ma quella che la coscienza cristiana ha formulato su Gesù, quindi l'idea appunto di un Dio che è, di un Gesù Cristo che sia Dio, sia uomo che Dio, non è formulata, leggeremo poi, vi mostrerò anche alcuni testi di buon aiuti, di questo, adesso ritenuto anche dall'attuale pontefice un grande, una grande persona, parleremo di buon aiuti, di questo terribile modernista. Non è possibile conciliare il senso naturale dei testi dei Vangeli con ciò che i nostri teologi insegnano, perché i nostri teologi sono naturalmente più fighi e più intelligenti. Poi qui c'è una questione un po' complessa, ma di questa non ve ne parlo, perché ne parlerò poi in un video specifico. L'accenno soltanto il fatto che, come sappiamo, in alcuni passi evangelici sembra che Cristo dica che sta arrivando la fine del mondo, quindi non passerà questa generazione prima che, in realtà, noi sappiamo che gli esegeti più contemporanei, ma correttamente ispirati, ovviamente, insomma, correttamente all'interno della fede cattolica hanno sempre sostenuto che Cristo qui parlava della caduta di Gerusalemme, dicendo non passerà questa generazione prima che vedrete l'angelo di Matteo, questa sorta di fine del mondo. O che comunque con la parola generazione non si intenda la generazione come intendiamo noi, ma l'intera gens, quindi l'intero popolo ebraico. Però di questa questione poi ne parliamo. Secondo loro invece, secondo i modernisti, questa affermazione è praticamente o c'è un errore nei Vangeli, quindi questa cosa Cristo non ha mai detta, oppure Cristo si è sbagliato. Capite? Ah, un'altra cosa veramente grave. Il critico, quindi loro, gli esegeti, non può assegnare a Cristo una scienza illimitata, se non nell'ipotesi che non è possibile concepire storicamente e che ripugna il senso morale. Quindi praticamente non è detto, non è vero che Cristo necessariamente sapesse tutto. Loro sono i sostenitori dell'idea che Cristo non aveva coscienza di essere Dio o che non lo era del tutto. Quindi c'è sempre questa ambiguità profonda del modernista. Quindi può darsi che Cristo non avesse la scienza di Dio, dicono i modernisti, e ciò nonostante non abbia voluto comunicare la cognizione di tante cose. Cristo non ebbe sempre la coscienza della sua dignità messianica. Questo è gravissimo. Loro sostengono che Cristo praticamente è arrivato a essere Dio, cosciente di essere Dio pian piano. Non subito, ha fatto un po' lo stupido, come ebbe modo di dire qualcuno che conosciamo di nostra conoscenza, e quindi non era da subito Dio. Vabbè, la resurrezione del Salvatore non è un fatto di ordine storico, chissà come mai, ma un fatto di ordine puramente sovrannaturale, né dimostrato né dimostrabile, quindi ciò che è scritto nelle scritture, scusate la ripetizione, è una fesseria per i moderni, non è dimostrabile che Cristo è risorto. La coscienza cristiana l'ha derivato gradatamente da altri fatti. E vabbè. La dottrina della morte espiatoria di Cristo non è evangelica ma solo paolina. Quindi il fatto che Cristo muoia appunto per espiare, i nostri peccati che egli è l'agnello di Dio appunto che si è immolato i nostri peccati se l'ha inventato San Paolo secondo i modernisti non è non è dottrina è propriamente cristiana e alcuni commentatori qua sotto mi hanno detto che appunto l'idea di un Cristo che muore per espiare i nostri peccati non è non è non sarebbe non sarebbe appunto cattolica ma ne parleremo e parleremo anche di questo. Qui si parla poi anche dei sacramenti della Costituzione della Chiesa ma ovviamente non possiamo parlare di tutto. Quindi mi dedicarò in un secondo video se avrete voglia di ascoltarlo a terminare la lettura del decreto Lamentabili in cui ripeto San Pio X si scaglia con una grande chiarezza intellettuale contro le eresie moderniste.